Come promesso, Advisory Update è il momento dell'approfondimento del pomeriggio e ci concentriamo sulla giornata internazionale dell'acqua. È proprio oggi, 22 marzo, e allora siccome l'acqua è diventato anche un asset su cui uno dei possibili investimenti anche per chi monitora e lavora sui mercati, è notizia di qualche settimana fa l'avvio dei futures sull'acqua ad esempio, ma ci sono anche evidentemente possibilità di investimenti diversi magari su attività che si concentrano su questa materia prima, anche in virtù di una situazione generale che riguarda l'acqua che è bene fotografare nella maniera più attenta e utile per tutti noi. Insomma, è una materia prima che ovviamente è la più preziosa, dall'acqua si genera la vita e quindi è bene anche fare appunto il punto della situazione. Noi lo facciamo con un ospite che è già in collegamento con noi, Antonio Celeste, ESG Product Specialist di Lixor ETF. Antonio grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. E allora, io comincerei il nostro ragionamento, il nostro approfondimento partendo proprio da quello che è la situazione nel mondo per quanto riguarda l'acqua e da quello che emerge insomma anche dai vostri studi, c'è sempre meno disponibilità e questo forse è quasi banale dirlo, ma soprattutto sempre meno equità nella distribuzione di questa risorsa. È sempre più per i più ricchi, è veramente banale dirlo, è sempre meno a disposizione per chi evidentemente ha meno disponibilità economiche e in generale di accesso alle materie prime. Antonio? Senz'altro, quindi l'acqua come sappiamo ovviamente è uno dei beni più importanti per il nostro pianeta, lo sappiamo un po' tutti, ecco per la vita, ma non solo per la vita ma anche per la nostra civiltà, per i nostri modi di consumo. Andrò un po' più nel dettaglio in seguito su questi aspetti. Ma giusto per dare una visione così panoramica e generale, l'acqua potabile rappresenta l'1% dell'acqua esistente nel nostro pianeta e purtroppo in seguito al riscaldamento globale questa risorsa sta diventando sempre meno disponibile. Per dare alcune cifre, per così individuare un po' il problema e l'impatto che l'acqua può generare sulle nostre vite, possiamo citare per esempio, secondo le stime dell'Unicef, che 2,2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile e 3 miliardi di persone non possono lavarsi le mani. Sappiamo oggi, con quel che riguarda, vista l'emergenza, l'emergenza Covid, sapere che quasi la metà della popolazione mondiale non ha accesso a questa risorsa fondamentale. E peraltro oggi è la prima cosa che viene suggerita per combattere la pandemia, cioè lavarsi le mani il più possibile. Esatto, esatto. Non è stata mai così attuale la giornata mondiale dell'acqua come lo è oggi. Ecco, possiamo dire che anche il consumo d'acqua è cresciuto notevolmente negli ultimi 100 anni, il consumo è stato moltiplicato per 6, questo perché cresce per due fattori, fondamentalmente l'aumento della popolazione che si è registrato negli ultimi 100 anni, possiamo citare il fatto che adesso andiamo verso gli 8 miliardi e secondo le stime raggiungeremo gli 11 miliardi alla fine di questo secolo. Quindi il consumo di acqua è indexato, se vogliamo, è legato all'aumento della popolazione, ma è anche legato alla nostra civiltà, al nostro modo di produrre. L'acqua è ovunque, non è solo quella che noi beviamo, ma fa parte anche dei prodotti che vengono fabbricati. Giusto per dare un esempio, quando per esempio guardiamo una tazzina di caffè, se chiediamo qual è la quantità d'acqua in quella tazzina di caffè, tutti cominceranno magari a misurare la tazzina, a fare delle ipotesi tirando fuori qualche formula studiata a scuola, siamo completamente lontani perché la quantità di acqua necessaria da prendere in considerazione è tutta l'acqua legata alla produzione del caffè e quindi se io vi dico qual è la quantità di acqua, stiamo all'incirca sui 150 litri necessari per produrre una tazzina di caffè. Quindi se noi pensiamo 150 litri può sembrare una cifra un po' astratta, se li vogliamo materializzare sono il volume di una vasca da bagno. Quindi per produrre quella tazzina di caffè ci vogliono 150 litri, se noi pensiamo per esempio a una maglietta, un t-shirt, ci vorranno 10 vasche da bagno e se pensiamo a un chilo di carne ci vorranno 100 vasche da bagno. Quindi capiamo che l'acqua è fondamentale per la vita come sappiamo, ma è anche fondamentale per il mantenimento della nostra civiltà e quindi la mancanza di acqua e secondo le stime ci sono delle proiezioni per il 2030 vi sarà una differenza del 40% tra l'offerta e la domanda, una domanda 40% superiore all'offerta. Quindi questo creerà anche problemi geopolitici è un aumento dei flussi migratori che si accelererà sempre di più per via del fatto che ampie porzioni del globo non saranno più utilizzabili ai fini dell'agricoltura. Quindi con scenari probabili, possibili anche di conflitti per l'acqua e con un aumento dei migranti notevole come possiamo immaginare verso i paesi più ricchi. Peraltro abbiamo citato insomma anche l'ultimo dato che ci hai fornito entro il 2030 la domanda dell'acqua superiore all'offerta del 40% a conferma insomma di quello che succede e di quello che abbiamo detto in apertura. Abbiamo anche mostrato alcune immagini di sostenibilità in generale, di energia sostenibile e di green perché c'è anche un altro aspetto. Tu hai citato per adesso solo accarezzato ma adesso entriamo nel vivo dell'approfondimento del cambiamento climatico e di quanto impatta insomma sull'approvvigionamento idrico. C'è un altro aspetto da considerare che l'acqua a disposizione degli abitanti insomma del pianeta, la qualità dell'acqua sta peggiorando e io immagino che qui il cambiamento climatico abbia un impatto piuttosto importante su questa cosa. Ottimo punto, esatto. La qualità si sta deteriorando per effetto del cambio climatico, vi è sempre meno ossigeno a disposizione nell'acqua, quindi l'acqua è sempre meno ricca di ossigeno, quindi questo crea un problema di qualità. Inoltre possiamo anche aggiungere il deterioramento delle infrastrutture che in diverse località fa sì che l'acqua viene sempre più inquinata da particelle metalliche o di altri materiali che fanno parte delle infrastrutture. Quindi non vi è soltanto un abbassamento a livello della quantità di acqua disponibile ma anche a livello della qualità di acqua proprio per effetto dei cambi climatici che si stanno verificando e accelerando. Assolutamente. A questo punto la domanda quasi immediata di pancia che viene da fare a fronte di una situazione comunque in divenire e che sta diventando sempre più critica, insomma che cosa si sta facendo per rendere più sostenibile la provvigione di risorse d'acqua dolce nel mondo, soprattutto ovviamente verso i paesi più in difficoltà. Vien subito da ricordare che cosa sta cercando di fare l'ONU e quali sono le disposizioni che l'ONU ha indicato ai paesi che compongono l'organizzazione. Esatto, dunque è stato pubblicato proprio oggi un rapporto, il World Water Development Report delle Nazioni Unite dove vengono identificati tutti questi dati che ho appena elencato vengono esposti a livello mondiale e viene accentuato, viene sensibilizzato il concetto di valore dell'acqua, cioè noi attualmente all'acqua diamo un costo che è soltanto un'infima parte del valore dell'acqua e vi sono appunto degli impatti che sono difficilmente quantificabili. Ecco per esempio in questo rapporto viene identificato, viene lasciata così la domanda in sospesa, in sospeso qual è per esempio l'impatto di 443 milioni di giorni di scuola persi a causa di malattie legate all'acqua. Ecco, quindi qual è questo impatto? Poi questo impatto si può quantificare anche in maniera diversa in base ai paesi, cioè se noi abbiamo questo impatto lo trasferiamo in un paese come l'Italia dove si può continuare ad avere un insegnamento magari anche online, questo non è lo stesso impatto che si può avere in paesi dove mancano le infrastrutture e quindi si può letteralmente sabotare l'accesso all'istruzione di tutta una fascia della popolazione. Quindi il concetto fondamentale è quello di dare un valore all'acqua che vada al di là dei semplici costi di produzione, ma che prenda in considerazione anche gli impatti sulla biodiversità e sulle popolazioni, senz'altro. Parliamo adesso anche di, come ci ricorda anche un po' il titolo, di come si può investire in maniera virtuosa e quindi seguendo la sigla ESG. Tema di cui parleremo peraltro qui alle Fonti TV il prossimo 15 aprile nella tavola rotonda dedicata alle Asset Management TV Week. Nell'occasione interverranno alcune delle società più importanti del settore come Amundi, Pictet, Invesco e NNIP. Ora siamo in collegamento con Antonio Celeste, ESG Product Specialist di Lixor ETF perché a fronte della fotografia sulla materia prima più preziosa al mondo possiamo individuare in qualche modo o capire quali sono, se ci sono le aziende più attive in questo ambito, le opportunità e quindi anche metterle nelle condizioni gli investitori di fare la loro parte se vogliamo. Senz'altro, senz'altro. Gli investitori hanno un doppio ruolo in questo caso, ecco il ruolo di investitori quindi di dare capitali a queste aziende investendo in aziende che possono dare un contributo pratico alla soluzione di questi problemi e nello stesso tempo anche avere un'esposizione positiva su questo trend, quello dell'acqua, che possiamo definirlo in tutti gli effetti un mega trend, trattandosi di un fenomeno che avrà un impatto per diversi anni, ecco possiamo dire che l'acqua è stata considerata da molti analisti l'oro blu del XXI secolo proprio per il fatto della sua scarsità, rarità e quindi della differenza fra domanda e offerta. Se andiamo un po' ad analizzare la tipologia di aziende nelle quali noi investiamo, che noi selezioniamo nel nostro Lixor ETF dedicato all'acqua, abbiamo tre tipologie, abbiamo le aziende che si occupano del filtraggio dell'acqua e quindi del riciclaggio anche dell'acqua ma anche le aziende che danno dei sistemi di monitoraggio, quindi si parla di smart grid per esempio che sono in grado di monitorare in flusso continuo l'andamento della temperatura, della pressione, ma anche delle vibrazioni in alcuni casi e rilevare questi segnali in modo da poter adattare il flusso di acqua ma anche poter individuare i punti in cui ci potrebbero essere delle perdite. Justo apro una parentesi, vado a pensare che ci sono città in America Latina dove la perdita d'acqua è del 40%, quindi qualcosa che è insostenibile. Quindi abbiamo questi attori che hanno questo tipo di soluzione, poi abbiamo gli utilities, quindi le società di servizi che si occupano della distribuzione dell'acqua e anche del trattamento delle acque reflue e poi infine abbiamo anche la parte infrastrutture dove possiamo immaginare tutta la parte canalizzazioni, tubi e sistemi di irrigazione. Ecco, potrei anche darvi l'esempio di qualche società così per dare un'idea della tipologia di società. Sì Antonio, ti interrompo solo un istante perché è uscita poco fa, giusto per completare un po' il nostro discorso, è uscita questa agenzia che ci riporta come l'Italia sia seconda in Europa, è notizia di poco fa, per prelievo di acqua potabile per abitante. Secondo in Europa, secondo l'Istat, anche qui in occasione della giornata internazionale mondiale dell'acqua e si dirittura dall'ONU, il focus è un tematico annuale multifonte che propone appunto risultati risultati chiarano diverse indagini, in particolare sul 2018 non sono collegate al servizio pubblico di depurazione 18 milioni di residenti, parliamo di Italia, lo ribadisco, le perdite idriche in distribuzione sono in costante aumento, 42% nel 2018, 2020 quota pari all'87, 4% delle famiglie. È molto o abbastanza soddisfatta del servizio? Sono in nove comuni capoluogo di provincia, città e metropolitana, tutte del mezzogiorno, sono adottate nel 2019 misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua, mentre nel 2020 il 67,4% di persone di 14 anni e più è attenta a non sprecare. Il comunicato poi va avanti, mi fermo un attimo perché appunto stavamo facendo un ragionamento importante con Antonio Celeste su come e dove eventualmente investire per chi ci segue, operatori e investitori nell'acqua, dato che serve anche un segnale forte da questo punto di vista e lo ribadisco insomma il tema ESG che sta per Environmental, Social and Governance, serie di criteri utilizzati per misurare la sostenibilità degli investimenti, sarà al centro della nostra tavola rotonda dedicata alle asset management tv con società importanti, le settore come PicTet, Amundi, Invesco, MNIP. Torniamo a noi Antonio, dicevamo le società appunto, a qualche società ovviamente, non tutte, che possono essere appunto interessanti di cui possiamo spendere qualche parola su questo fronte. Allora, giusto per darvi una visione un po' panoramica, il nostro ETF seleziona 30 società sulla base della ricerca di Robeco Sam, uno dei leader in questo campo a livello di ricerca e le società vengono selezionate in base alla loro esposizione alla tematica dell'acqua, in base al loro business plan e al business model e hanno all'incirca, selezionato a partire da un 40% di revenues sulla tematica dell'acqua e l'ITF ha un size di oggi siamo a 880 milioni di euro con un tear dello 0,6%. La tematica, come dicevo, è una tematica che sta andando veramente bene proprio per il fatto che vi è questa domanda di acqua sempre più crescente e che quindi queste società leader sono posizionate in un settore in crescita. Cominciamo a fare così una vista panoramica, l'ITF dall'inizio dell'anno ha generato 6,4% di performance e in un anno il 45%. Se andiamo a guardare qualche società, così per dare qualche esempio, posso citare nel ramo industriale la statunitense Pentair che dall'inizio dell'anno ha generato il 19% e addirittura in un anno, nei 12 mesi ha generato il 150% di rendimento, una società che si occupa di pompe, di filtri, di sistemi di irrigazione e mi piace sottolineare l'acquisizione della società Rosean, da parte di Pentair, una società che è specializzata nel filtraggio di acqua cioè dei sistemi di trasformazione dell'acqua non potabile in acqua potabile. Quindi rispetto a quel che ho appena detto all'inizio della nostra conversazione, visto il bisogno di acqua potabile, si spiega anche perché queste aziende hanno questi tassi di crescita. Possiamo citarne per esempio un'altra nel ramo delle utilities, dei servizi, la francese Veolia che ha fatto 11% all'inizio dell'anno e mi piace per due motivi. Il primo perché utilizza dei sistemi di intelligenza artificiale per il trattamento multisegnale in modo da identificare i punti incrociando ovviamente i vari dati con anche il consumo dell'acqua per capire quando il sistema va in crisi e quando vi sono delle perdite nel sistema, ma anche perché Veolia è all'avanguardia nel mondo per quanto riguarda la dissalazione, che è un metodo che sappiamo permette di trasformare l'acqua marina in acqua potabile. Nel corso degli anni immagino che sia un tema, scusami se ti interrompo Antonio, ma nel corso degli anni sarà un tema immagino che diventerà più che mai attuale insomma questo della desalivizzazione. Esatto, esatto, è un tema sempre più attuale. Vi sono dei paesi come Israele che fanno ricorso in modo massiccio a questa tecnologia, ma anche alcuni paesi del Golfo e quando vediamo ecco la mappa della water scarcity, del problema idrico a livello mondiale, le proiezioni nel 2050, vediamo che sostanzialmente tre quarti dell'Italia da Firenze in giù saranno già in una zona critica, quindi noi facciamo parte, essendo un paese mediterraneo, a un paese che verrà in qualche modo colpito in futuro dal problema della scarsità d'acqua, per cui dobbiamo agire adesso, giornata dell'acqua, quindi lo vogliamo ricordare, bisogna agire, quindi questo tipo di investimenti hanno, lo ripeto, un doppio ruolo, quello di canalizzare capitali verso queste imprese, ma anche di generare degli ottimi rendimenti. Sto mostrando intanto anche sul grafico settimanale, regia possiamo anche mostrarlo, Veolia, che è uno delle compagnie che ci ha appunto indicato Antonio Celeste, di Lixor ETF, questo è Veolia, quotato in Francia, ma anche Penta Air, che lo trovate insomma a Wall Street, questo è sempre il grafico settimanale, quindi insomma che ci dà una panoramica più ampia rispetto al daily, per farci capire insomma di che cosa stiamo parlando. Il terzo, la terza società che avevi citato, Antonio, perdonami. Allora vi ho citato Penta Air, che ha acquistato la società Rosian, quindi oramai non... Ah ok, ha acquistato Rosian. E poi era Veolia, me ne posso citare un'altra statunitense, Xylem, con la X e la Y, Xylem, statunitense, anche questa pompa insieme di filtraggio, più 4,4% dall'inizio dell'anno. Eccola qui, sempre il grafico settimanale, così insomma diamo una visione più ampia, questa è la situazione di Xylem, che il nostro Antonio Celeste ci ha suggerito. È stata una chiacchierata interessante e per questo ringrazio Antonio Celeste, ESG Product Specialist di Lixor ETF, tema che abbiamo affrontato, che tornerà, lo ricordo ancora una volta, ne approfitto perché insomma la giornata internazionale dell'acqua ci dà l'occasione di ricordare questo importante appuntamento qui sulle fonti TV, il tema ESG, 15 aprile, tavola rotonda dedicata all'Asset Management TV Week, ci saranno società importanti del settore, Amundi, di Pictet, Invesco e Enen IP, però grazie davvero, lo ribadisco all'Antonio Celeste di Lixor ETF per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon lavoro.